25 caffè, qualità, cortesia e tanto cuore. E' stato siglato questa mattina presso la Sala Cavallerizza, la terza, un protocollo d'intesa tra il comune di la terza, Casalimpresa Taranto, programma sviluppo e studio a Marangi, al fine di promuovere misure di politiche attive. Presenti per il comune il sindaco Franco Frigiola e Sebastiano Stano, vice sindaco. Francesca Intermite, presidente di Casalimpresa Taranto, Luigi Laterza, vice presidente Casalimpresa Taranto, Luigi Punzi, presidente Casalimpresa Laterza, Silvio Busico, direttore generale di programma sviluppo, Fulvio Iurlano, project manager programma sviluppo e Francesco Marangi per finanza e controllo consulenti aziendali associati. Francesca Intermite, presidente di Casalimpresa Taranto. Abbiamo fatto questa mattina la firma del protocollo d'intesa con il comune di Laterza, ma non solo. Di cosa si tratta? L'ente civico ci ha dato disponibilità a portare avanti questa iniziativa che nelle finalità della nostra associazione datoriale abbiamo inteso perseguire sin dalla nascita. La formazione, riteniamo, possa essere importante per creare il potenziale di sviluppo per il nostro territorio. E questo progetto parte dalla Terraza, una città dinamica, una città giovane, una città che crede che si può cambiare a partire dalla formazione. Io credo che sia una grande opportunità per il nostro territorio, per la nostra realtà. Come amministrazione abbiamo, personalmente, ho fortemente voluto una delega che è stata affidata al vice sindaco Sebastiano Stano che è la delega come incubatore di imprese. Questa delega è fondamentale perché nel nostro territorio, oltre a lavorare e a spenderci per il turismo, che è l'apparato fondamentale per la crescita del territorio, dal punto di vista anche di crescita economica e occupazionale, creare un incubatore di imprese e quindi avere l'opportunità di far unire l'offerta a quella che è la richiesta occupazionale, secondo me è fondamentale. Questa volontà sia di casa imprese che di amministrazione, presentata da casa imprese, accolta favorevolmente dall'amministrazione comunale, è il primo dei segnali dell'attenzione dell'amministrazione concreta di questo maggior interesse per il territorio e attenzionare i giovani per tutti quelli che sono gli strumenti normativi di incentivazione agli investimenti, affiancamento alle imprese più esistenti affinché si possa incrementare la competitività, ridurre il gap e creare maggiore opportunità di sviluppo per i giovani stessi e per il territorio. Un protocollo d'intesa, si parla di formazione e qui entra in gioco il programma sviluppo. Sì, è un protocollo d'intesa importante con il quale estendiamo la nostra rete di orienta giovani sul territorio della provincia di Taranto con questo nuovo sportello. Uno sportello che ha una dubbio veste, un dubbio target di riferimento, giovani imprese. Per giovani tutte le misure di politica attiva presenti in questo momento sul territorio regionale e tutte le opportunità offerte sul territorio. Per le imprese tutte le opportunità che nascono dai bandi e degli avvisi attualmente in essere. È una grande opportunità per il territorio perché parliamo di stanziamenti importanti e di misure di politica attiva importanti al supporto del mercato del lavoro.